Ci offrime la possibilità di sognare e la non possibilità di raggiungere i nostri sogni. Noi ci sentiamo molto raffegnati. I diritti umani sono quelli che hanno a caffare con la dignità dell'essere umano. Tutti noi di sognare con una comunità e a un paese di cui ci sentiamo parte. Perché è il mondo che vorrei. Un gruppo di ragazzi, immagini un gruppo di bambini di 9-10 anni che si pone un problema, che va davanti al procuratore della Repubblica e gli dice scusa io penso questo. Adesso rispondimi. Grazie a tutti. Pronto, polizia, operatore 6. Suo padre sta picchiando sua madre? Pronto? E lui ci voleva abusare su di lei.